Dimmelo, Diego, dammi una spiegazione, fa che ci sia sempre... So soltanto che la Lazio sta a perdere, quindi mi ruote un po' il culo. Sta perdendo la Lazio, lo capisci? Mi dispiace, Diego. Dopo un minuto! Dai, Roma, tu a zero. 5? Oh, Abram è una pippa, ha fatto già due golle, ma quando mai? Regà, ma la Lazio non sta a fa' un tigolo. Regà, la Lazio non sta a fa' niente, sta a prendere solo il cazzo. Mi sono sdrammatizzato perché non posso stare a perdere da zero con qua a merda da Roma. Sono andato pure a Carbatella oggi, tutte bandiere della Roma, vaffanculo. Eh, vabbè, ho capito. Ho capito, manco un Laziale. Dai, chat, Seri, come sta a giocare la Lazio? Io su diretta non vedo neanche un'azione della Lazio. Male, vedi? La verità. Dai, Seri, male. Ho fatto un tiro al trentasettesimo. Ma strano, però. Vabbè, complimenti a Murigno, che cazzo devo dire? Bravo. 3 a 0! 4 volte che vengono e shottati. Bellegrini. Vuoi l'elmo? Cioè, regà, sta a finire in goleata. Sta a finire in male male. Roma, 3, Lazio, 0. Eh, quella partita là. È quella partita là, vero? Hanno giocato pure in mezzo alla settimana. Dovrebbero essere distrutti fisicamente. Ragazzi, Roma sta per fare 4 a 0 con Mkhitaryan. Quante relazioni hai detto? Stiamo venendo lì, guarda. Sembra una disfatta totale. Cioè, proprio una goleata della Roma. Ma totale. Ha preso una travessa adesso la Roma. Pietro ha munito. È una tristessa infinita questa cosa. Cioè, doveva essere una partita equilibrata. Perché comunque, 9 tiri la Roma ha fatto, 9 tiri. 4 in porta, 4 fuori. Ragazzi, non ha fatto un cazzo. C'è solo il possesso palla. Se lo sbatte al cazzo, però. Oddio, ricominciato al secondo tempo. Ma lo fa un gol la Lazio o no? Comunque i lupi sono troppo OP. Cioè, cosa vuol dire? Eh, i mammi che sono troppo OP. Oh, un gol! Uno! Uno ne le ve lo fa! La cosa incredibile è che la Roma si è svegliata con la Lazio. Ha fatto cacare 3 partite prima della Lazio! Ma scusate, ma immobile, tutto ciò, che cosa sta facendo? Non riesce a ricevere palla. Secondo tempo, ragazzi, possesso palla della Lazio, 73% della Roma, 27%. Primo tempo, 60%, possesso palla della Lazio, 40% Roma, ma ha fatto 3 gol. E 10 tiri. Completamente distrutta la Lazio. Dal gioco della Roma... ...inesistente. Porca troia. Vabbè. Complimenti a Murigno. Che te lo vedo di. Dimmi cos'è. Mi volete... Mi volete distruggere? Dimmi cos'è. E accetto tutto. Se io dico Tommy, voi dite. Ti saluta Abram, va bene. Tommy Apro, ma bene. Va bene, ragazzi. Eh, che devo dire? È giusto. 3 a 0. Zitti. Ab, come tu? Chi è? Bella il Paolo! Datone, volevo svegliarti dopo il derby di ritorno. Vabbè, vaffa. Allora, guarda. Bello. Sette sufre. Allora. Chua. Die qui. square There.